Salve e bentrovati. All'avvio di settimana poco esaltante, qui usiamo un eufemismo che era andato in scena ieri, oggi è seguita una nuova seduta piuttosto negativa. Questo nuovo passo indietro è stato alimentato, tra i vari aspetti, anche dalle dichiarazioni di alcuni membri della Fed che si sono dimostrati piuttosto freddi in merito alle prospettive future. Si segnala anche che Confindustria ha rivisto a ribasso le previsioni economiche per il PIL del 2024 e del 2025. La modifica risente dell'effetto delle revisioni Istat sul PIL. Il grafico del Fuzzimi, lo vedete, non è mai stato positivo nel corso della giornata, anche se va registrato che la chiara discesa della mattinata è stata in parte mitigata dal recupero che è avvenuto nel pomeriggio. Milano dunque perde oltre mezzo punto percentuale, ma Francoforte riesce a chiudere con un passivo molto più neutro. In questo caso il Dax aveva infatti avuto una buona mattinata che gli ha poi permesso, nonostante il calo che c'è stato appunto nella stessa tarda mattinata, di rimanere se non altro a breve distanza dalla parità. Avvio timido per gli indici statunitensi, Nasdaq e Dow Jones infatti stanno mostrando entrambi un calo abbastanza moderato. Tra i titoli però spicca il più 8,90% di General Motors, lo vediamo in scia alla pubblicazione dei conti del terzo trimestre. Tornando a Milano, seduta sotto tono soprattutto per le utilities, il fanalino di coda del Fuzzimib infatti è ERG a meno 3,74%. Rimanendo nello stesso comparto, A2A e HERA chiudono a ridosso dei due punti e mezzo di flessione. Unipol scivola sotto ai tre punti e mezzo nel giorno dell'approvazione per la fusione di Unipol-SAI assicurazioni. Mentre è stata una giornata a doppia faccia, come vedremo anche a breve per gli industriali, ad esempio Inuit è tra i peggiori e sfiora il meno 3%. Il migliore invece, sull'altro lato del tabellone, è Nexi, più 2,45% che segue il trend della francese World Line. Bene anche il settore oil con Saipem a più 2, scusate, 33% e Tenaris che supera il punto di progresso. Mentre ST Microelectronics, favorito dai rialzi del settore tech, e Leonardo sono nella top 5 con rialzi che si aggirano intorno al punto e mezzo. Sul Forex, Euro-Dollar aveva avuto una mattinata positiva ma poi è sceso sotto ai valori della scorsa mezzanotte, un po' come poi è successo anche ad altri indici europei. Ora si trova in area 1,08. Sostanzialmente neutro anche Euro-Sterlina, anche se in questo caso i massimi in giornata sono stati toccati dopo mezzogiorno. Si mantiene invece leggermente positivo il cross Euro-Yen. Per finire, prima di passare la linea al trader Alessandro Aldrovandi, una piccola postilla sulla corsa dell'argento che qualche giorno fa aveva toccato un nuovo massimo storico sopra i 33,5 e ora si è posizionato sopra i 34,5 dollari. Ed ora, come detto, non mi resta che passare la parola ad Alessandro Aldrovandi per la sua opinione. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Alessandro Aldrovandi, trader indipendente, per dare uno sguardo come sempre agli indici. A te la parola. Sì, buongiorno a tutti. Partirei come al solito dalla Borsa Italia, dal nostro future Fuzzimib che ha iniziato, sembrerebbe una fase di storno e di ritracciamento dopo il rally che praticamente ha caratterizzato l'indice durante questa prima parte del mese di ottobre raggiungendo proprio, bene il discorso, un massimo sul livello 35.120 quindi oltre la solita di 35.000. Lì c'è ovviamente una resistenza che sta respingendo i prezzi, lo si vede anche con la giornata fortemente negativa di oggi. Questa negatività potrà continuare ancora, a mio parere, nelle prossime sedute fino al raggiungimento del livello 33.750 dove poi transita anche l'importante indicatore supertrend. La situazione è analoga sulla Borsa tedesca con il future DAX, anch'esso ha raggiunto per l'ennesima volta la scorsa settimana un massimo storico in prossimità nell'intorno del livello 19.750 e come spesso avviene in questi casi il mercato inizia ad avere alcune prese di beneficio dopo gli ottimi guadagni fin qui realizzati. Anche in questo caso la negatività potrebbe stendersi nelle prossime sedute fin verso l'area 19.250 in prima battuta e poi successivamente la soglia psicologica dei 19.000 punti. Infine dando uno sguardo a quello che succede oltre oceano a Wall Street con lo Standard & Poor's 500, anche qui la scorsa settimana realizzato massimo storico nell'intorno del livello 5.930, il mercato sta leggermente ritracciando, questo è un mercato decisamente più forte rispetto a quelli europei, si mantiene più che altro in un trading range ma credo che presto le quotazioni arriveranno a lambire il primo supporto individuabile sul livello 5.850 e se la negatività dovesse continuare ci potrebbe essere la continuazione di un pullback fin verso il livello 5.800. Quindi come si vede sia sul mercato azionario europeo che il mercato azionario americano le borse sono nel breve impostate al ribasso, si tratta di ritracciamenti, distorno e prese di beneficio assolutamente normali e fisiologiche che comunque non cambiano la struttura di lungo termine delle borse che rimane assolutamente rialzista. Perfetto io ti ringrazio per l'analisi e con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, buon trading a tutti. Quest'ultimo contributo va a chiudere l'appuntamento di oggi. Vi ringrazio dunque per la visione, un saluto e un arrivederci a domani.